Sì, per la prima volta, attaccano forse troppo in marza i nostri, palla per Filippo Galli, ecco il traversone di quest'ultimo, il colpo di testa è stato di Gines, ma è pronto Ferri a spingere ancora in avanti, poi Massaro, Ferri, molto bene, ecco il traversone al centro, il colpo di testa, rimettere la palla all'indietro di Orio, Preacchi va alla conclusione sabato, tiro alto di poco, splendida azione degli azzurri. Sì, tambureggiante, la frase che almeno sulla carta è più forte rispetto al Cile. Intanto in azione Stoppink, Rivers, ancora Rivers, lo attacca Paresi, palla al limite dell'area pericolosamente, tiro e gol, gol del Costa Rica ad opera di Rivers. Rivers ha segnato al trentatresimo del primo tempo e si è verificato. Il luogo al quale fa ricorso nei momenti in cui servisse una mano decisiva, saltano i volti e poi il rinvio di Alpizar a piazzato finale e che le due punte attualmente in campo, Iorio e Driacchi, piuttosto piccoli, non riescono a sfruttare. Battistini, Massaro al centro, fuori gioco, fuori gioco di Iorio. E poi il pallone termina in gol, esulta il pubblico ma naturalmente l'azione era ferma, non si può parlare nemmeno di gol annullato. Grazie a tutti.